Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione del TG60 per questo nuovo appuntamento con l'informazione su TVL che apriamo con il sommario dei principali argomenti che affronteremo in questa edizione. Ecco i titoli. La conclusione di un cerchio nel segno della solidarietà, quello che è accaduto questa mattina alla MAIC e gli organizzatori della Biciclettata della Salute, come da tradizione, ne hanno consegnato parte del ricavato alla Fondazione, un'altra realtà sociale del territorio pistoiese. Oggi festa del padrono della Polizia di Stato, celebrazione alla chiesa di Chiazzano, a margine dell'evento il questore Rimpiabate ha tracciato un bilancio dell'attività del corpo in provincia, è stato un anno impegnativo ma positivo, ha detto. Alpa la Carrara ha presentato il settore giovanile di l'estra pistoia con il ritorno in serie attorno infatti anche la Next Gen, competizione dedicata alle formazioni in under 19 dei 16 club della Lega. Bentrovati dunque, iniziamo parlando della iniziativa di questa mattina dopo la manifestazione che ha occupato gioiosamente sulle due ruote, le strade di pistoia, la biciclettata della salute, la consegna di parte del ricavato a realtà locali impegnate nella sociale. Un evento di grande successo che conferma l'impegno nostro, organizzatori ma soprattutto delle cittadini che sono sempre partecipi e con entusiasmo vengono il giorno della biciclettata mascherati e partecipano a questo clima di festa. È andata in archivio la 17esima edizione della biciclettata della salute. Anche la manifestazione del 2023 è stato un vero e proprio successo non solo nei partecipanti, bensì nelle donazioni. Metà di questi ricavati sono stati donati alla fondazione Mike, l'altra metà sarà invece devoluta all'associazione L'Incontrario. L'assegno è stato rilasciato dagli organizzatori al presidente della Mike Luigi Bardelli di fronte a tanti ragazzi della fondazione, alcuni dei quali hanno partecipato alla biciclettata 2023. È una storia che è iniziata presto e ci fa un enorme piacere, non solo e anche per le cifre perché la Mike soprattutto in questi momenti ha bisogno proprio dell'apporto di tutti, ma ci fa piacere perché viene da una manifestazione che coinvolge la città, che è gioiosa, che è fantasiosa e si sposa perfettamente, che se ne pensi, con tutta quella che è la nostra attività abituale durante l'anno, con i nostri ragazzi disabili. Ogni volta i nostri sponsor sostenitori ci permettono di devolvere tutto quanto viene dato al momento dell'iscrizione in beneficenza. Noi da sempre, dalla prima edizione, abbiamo dato prima all'Aias, poi alla Mike Onlus, parte la metà del ricavato e poter nel nostro piccolo contribuire a questa esperienza così importante che portano avanti questi ragazzi. Non esistono colori, non esiste età, non esistono professioni. Tutti con lo stesso intento e tutti con il divertimento come obiettivo, per cui ragazzi, bambini, genitori, anche persone, diciamo, diversamente giovani. A proposito di strade, su cui vanno anche le due ruote, la Giunta regionale ha destinato 2,5 milioni di euro per opere di miglioramento stradale. Si tratta, ha spiegato l'assessore Stefano Baccelli, dei proventi delle sanzioni per la rivoluzione del codice della strada, combinate sulla Firenze-Pisa-Livorno e che per convenzione destiniamo ad investimenti per il miglioramento di tutte le strade di competenza regionale. La cifra è maggiore, oltre 770 mila euro, alla città metropolitana di Firenze. Per la provincia di Pistoia saranno destinati 145 mila 800 euro per interventi su 43 chilometri di viabilità regionale. E sempre a proposito di strade, dai primi di ottobre avranno inizio a Pievanievole gli interventi di pulizia dell'erba dai marciapiedi e di taglio del verde in prossimità delle strade ad annunciare l'intervento il comune Valdinievolino. Le operazioni di pulizia delle erbe dai marciapiedi prevedono una spesa di circa 4.600 euro, mentre quelle per il taglio sulle banchine, prevalentemente riguardanti i margini delle strade fuori dal centro abitato, inclusi i fossati lungo strada, hanno un costo di 8.400 euro. Questo intervento era programmato da tempo per migliorare la sicurezza dei pedoni che utilizzano i marciapiedi e dei veicoli che percorrono le nostre strade, ha detto il sindaco di Pieve, Gilda Diolaiutoi. Questa mattina la difensora civica della Toscana, Lucia Annibali, era a Pistoia per siglare il rinnovo dell'accordo per la collaborazione con la provincia. Si rinnova la convenzione tra la difensora civica della Toscana, Lucia Annibali, e la provincia di Pistoia. Il fine dell'accordo è quello di assicurare un punto di ascolto sul territorio per facilitare i cittadini nella presentazione delle istanze di tutela all'ufficio regionale. Rinnoviamo una convenzione, una collaborazione con l'URP della provincia di Pistoia e il difensore civico partita nel 2019, quindi oggi proseguiamo con ancora più slancio questo servizio attraverso un personale esperto che aiuterà il cittadino a raccogliere sul territorio le sue istanze dirette poi al difensore civico regionale. Quindi un servizio molto importante e di vicinanza e di sostegno ai cittadini. È un'esperienza quasi unica sul territorio regionale, nel senso che nel tempo e progressivamente abbiamo appoggiato lo sportello del difensore civico sul servizio dell'URP. Quindi in buona sostanza la provincia ha un ruolo di interfaccia, di primo accompagnamento nei confronti del cittadino. Gli esempi di istanze riguardano naturalmente il tema della sanità, quindi per esempio difficoltà o magari un mancato dialogo proficuo tra l'operatore sanitario e il paziente cittadino. Quindi noi cerchiamo di così instradare verso una maggiore chiarezza nella presa in carico per esempio del cittadino. Cerchiamo di gestire anche le liste d'attesa, ad esempio, quindi aiutando il cittadino a poter fissare nei tempi previsti per legge le visite di cui ha bisogno. E poi è importante anche il servizio di conciliazione per esempio che il difensore civico svolge attraverso i suoi funzionari che sono funzionari esperti e la conciliazione per esempio nel rapporto con Haiti è molto importante perché ancora una volta aiuta a dirimere tutto ciò che può essere un conflitto tra qualcuno che sentiamo distante e il cittadino. Quest'oggi la Polizia di Stato ha celebrato il proprio patrono, il momento, alla chiesa di Chiazzano. Nella giornata del 29 settembre la Polizia di Stato di Pistoia ha celebrato la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono dei poliziotti, con una messa alla presenza del prefetto Donatella Messina, del questore Olimpiabate e delle massime autorità civili e militari e con la partecipazione della cittadinanza. Proclamato da Papa Pio XII, patrono e protettore della Polizia di Stato per sostenere la lotta che il poliziotto combatte tutti i giorni con impegno professionale al servizio del prossimo, San Michele è stato celebrato con la Santa Messa alla chiesa di Santa Maria Assunta a Chiazzano, dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli accompagnato dal cappellano della Polizia di Stato Don Cristoforo Mielnik. Desidero esprimere la mia gratitudine, signor questore, per aver scelto questa frazione, piccola frazione di periferia come luogo di celebrazione della festa odierna, per ricordare che la Polizia di Stato è presente ovunque tra la gente, anche nelle periferie della città. È il simbolo della lotta del bene contro il male e per questo è stato scelto come protettore della Polizia di Stato per l'assonanza con l'impegno dei poliziotti che tutti i giorni combattono con sacrificio, con impegno a tutela della comunità che gli è stata loro affidata. San Michele Arcangelo e anche San Gabriele, San Raffaele e festeggiamo la Polizia che insomma in fondo sono un po' i nostri angeli custodi per quanto riguarda la vita sociale, la vita pubblica e quindi vogliamo onorare queste persone che ci aiutano a vivere meglio. È possibile tracciare un breve bilancio di quella che è stata l'attività della Polizia di Stato a Pistoia nel 2023. È stato un anno impegnativo e molto intenso, questo è un territorio certamente con un livello di criminalità non particolarmente aggressivo, siamo però soddisfatti sia in termini soprattutto in relazione ai risultati dell'attività di prevenzione che per noi è l'obiettivo principale. Una rassegna d'arte sul Sacro nel Contemporaneo ha visto impegnati numerosi artisti, si è conclusa nei giorni scorsi, andiamo a vederla. Nella pieve di San Tommaso e Ansano di Castelvecchio nel comune di Pescia si è conclusa la rassegna d'arte dal titolo Il Sacro nell'arte Contemporanea. La mostra è inaugurata il 2 luglio e è rimasta aperta fino a domenica 24 settembre. Oggi è appunto la chiusura, il finissage della mostra, abbiamo come nostro ospite il professor Saverio Simi De Burgis, ci sono 36 artisti che provengano dall'Italia ma anche stranieri e sono diciamo, io che ho organizzato questa iniziativa, sono abbastanza soddisfatto perché le persone hanno partecipato con soddisfazione e con piacere. L'iniziativa è pregevole in quanto nasce in uno spazio meraviglioso, quello di questa pieve di Castelvecchio, luogo direi sacro, mistico per eccellenza, dove si ambientano le opere direi in armonia simbiosi così come era nella tradizione storica precedente, quella che risale a lontano medioevo che praticamente può proseguire anche ai giorni nostri. Noi abbiamo un concetto di contemporaneo sfalsato nel senso che il contemporaneo è ovviamente l'attuale, quello che si vive oggi nel presente, ma il contemporaneo di una volta era ovviamente contemporaneo agli eventi storici che ne hanno contrassegnato nel tempo gli esiti, gli esiti anche artistici. Ora per quanto riguarda il sacro, lo spirituale, la religione, ovviamente credo che possiamo anche aprirci a delle analogie, a delle comparazioni anche con altre religioni e con un sacro che delle volte sconfina anche nell'aspetto diciamo profano, del laico, basta pensare a un artista come Kandinsky che parlava dello spirituale, dell'arte. Veniamo adesso allo sport con il basket, è stato presentato il nuovo settore giovanile di Estra Pistoia. Con il ritorno dell'Estra Pistoia in Serie A cambiano le regole, cambiano anche le aspettative del settore giovanile con il ritorno della Next Gen. La Next Gen è un'ulteriore pratica che i nostri ragazzi dovranno affrontare quest'anno che coinvolgerà tutte le squadre giovanili Under 19 affiliate alle società di Serie A1 all'interno della quale poi uscirà una squadra vincente come è normale che sia ed è un'esperienza ulteriore perché comunque ci permette di affrontare già squadre che sono strutturate in un certo contesto, che hanno una certa esperienza di settore giovanile legata a società di Serie A1 e quindi molto molto formativa. Quali saranno le squadre che faranno parte del settore giovanile del Pistoia Basket? Come tutti gli anni tre squadre eccellenza Under 19, Under 17 e Under 15, quest'anno abbiamo l'Under 19 che parteciperà al campionato Gold rispetto a quella dell'anno scorso che era l'Under 17 e poi le classiche 15, 14 e 13 che faranno anche campionati regionali, provinciali all'inizio. Poi c'è tutto il settore mini basket che consta di cinque squadre e il settore femminile che avrà alla nasa di partenza tre squadre nella categoria 14, 15 e 19. E oltre al mini basket anche la volontà di avvicinare i giovanissimi, quindi si parla di bambini da tre a cinque anni all'attività ludico-motoria per cercare di distorgli il più possibile da cellulari. Esatto, non solo da cellulari. Diciamo che abbiamo pensato a questa iniziativa da offrire al tessuto pistoiese, alle famiglie pistoiesi dove i ragazzi non faranno niente che è attinente alla pallacanestro ma faranno tutta un'attività volta al divertimento, volta ad imparare ad usare il corpo, volta a cercare di usare il corpo in contesti particolari e tutto questo sarà affidato alle sapienti mani di Virginia, Becciani, per cercare di portare i ragazzi a socializzare sempre più fra loro in età molto più adolescenziale. Quindi bambini dalle tribune del Palacarrara al campo del Palacarrara come fare? Il riferimento è Virginia Becciani, così come per il mini basket ci sono Mario Breschi e Annalisa Breschi che sapranno dare tutte le indicazioni del caso. Sui nostri social Instagram e Facebook, così come sul sito del Pistoia Basket 2000, troverete le indicazioni. Con questo è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo nel pomeriggio alle 14.30 c'è la replica della puntata di ieri sera di giovedì Sport a seguire Toscana Sprint, dunque in primo piano il mondo del ciclismo toscano alle 17.50, nuovo appuntamento con Ganzo e a seguire alle 18.05 aperitivo al Sesana. Noi ci ritroviamo con l'informazione, quindi come di consueto dalle 19 con l'inizio della nostra striscia informativa che vi accompagnerà tra telegiornale, servizi, rubriche e approfondimenti fino alle 21.00. Arrivederci. Grazie per l'attenzione. Grazie.